Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, benvenuti qui sul mio canale, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e mi raccomando lasciate un mi piace al video. Grazie a tutti come sempre per il vostro prezioso supporto. La notizia è di quelle belle finalmente, ovvero Lorenzo Musetti in quel di Parigi, torneo olimpico di tennis, raggiunge i quarti di finale battendo Taylor Frizz in maniera netta e convincente in due set. Un ottimo Musetti che sta trovando una continuità che in carriera onestamente non aveva mai fatto vedere ed ora viene il bello perché parliamoci chiaro, Musetti ha ottenuto a mio modo di vedere quello che era il suo obiettivo sulla carta, arrivare ai quarti di finale con il forfè di Sinner diventato la testa di serie numero uno della spedizione azzurra per quanto riguarda il singolare maschile e non ha deluso le aspettative. Anzi, partendo dal presupposto che il giorno prima del primo match contro Monfils alle Olimpiadi era impegnato in serata nella finale a Dumago, persa poi contro Serundolo, è un Musetti che ha fatto, a mio modo di vedere, un'impresa. Ha battuto in maniera netta tutti i suoi avversari, si è spinto sino ai quarti ed ora va a trovare un giocatore probabilmente più forte di lui perché tra poco è in programma l'ottavo di finale che decreterà l'avversario appunto di Lorenzo ed uscirà dalla sfida tra Alexander Zverev, campione in carica in quel di Tokyo 2021 e Alexander Popperin, quindi sulla carta dovrebbe avere vita facile il tedesco però mai dire mai sappiamo che il tennis è lo sport del diavolo e quindi può sempre succedere di tutto ovviamente contro Popperin Musetti parterebbe favorito con ottime chance di approdare in semifinale con Zverev partirebbe decisamente sfavorito ma è un Musetti che come ho detto all'inizio video sta trovando continuità, sta trovando un ottimo tennis, cresce partita dopo partita come ha detto lui stesso ormai ha perso il conto di quante partite ha giocato a fila dalla semifinale di Wimbledon, poi i tornei successivi, insomma la finale a Dumago che comunque è sempre una finale per quanto di un 2.50 non va mai data per scontata ed ora insomma un torneo olimpico da assoluto protagonista è ovvio che superare Zverev o Popperin vorrebbe dire giocare la semifinale contro Onovac, Diokovic o Zizipas perché è l'altro quarto di finale in programma dalla parte del tabellone di Musetti quindi sarebbe una semifinale abbastanza proibitiva ma sicuramente non impossibile perché Musetti è un giocatore che può veramente fare la partitona contro chiunque e comunque se dovesse essere semifinale e anche sconfitta avremo la certezza che Musetti andrà a giocarsi quantomeno la finale per il terzo o quarto posto che sarebbe veramente un qualcosa di prestigioso anche perché un italiano nel singolare che raggiunge appunto i quarti mancava da tantissimi anni per il tennis azzurro quindi veramente complimenti a Musetti e l'augurio è quello che possa veramente continuare su questa strada continuare così Musetti può veramente a mio modo di vedere entrare in top 10 tra i primi 10 tennisti del mondo se manterrà questa continuità Musetti secondo me può farcela gli è sempre mancata questa caratteristica la continuità perché a livello di tennis giocato poi sì forse il rovescio a una mano a volte rappresenta un limite se non sei Roger Federer però Musetti è dotato di una tecnica sopraffina è dotato veramente di un tocco veramente importante quindi complimenti a Musetti e non ci resta che attendere il suo avversario e come ho detto prima Fritz è stato veramente dominato perché è un po' la bestia nera ormai di Fritz Musetti probabilmente anche psicologicamente lo statunitense ha pagato un po' questi precedenti che se non sbaglio Monte Carlo, Wimbledon e Euroolimpiadi 3 su 3 a vittoria di Musetti quest'anno insomma psicologicamente non deve essere semplice è vero che la terra rossa non è il terreno al quale più avvezzo Fritz bisogna anche essere onesti però c'è anche da dire che Fritz ha ottenuto dei buoni miglioramenti e dei buoni risultati quest'anno sulla terra quindi non era scontata la vittoria di Musetti per quanto potesse partire leggermente favorito era sempre un ottavo di finale olimpico quindi complimenti di nuovo a Musetti e ora non resta altro che attendere l'avversario che uscirà appunto dallo scontro tra Alexander Zverev e Popperin detto questo purtroppo oggi è arrivata un'eliminazione per il tennis italiano ovvero il doppio misto composto da Andrea Vavassori e Sara Errani i due sono arrivati al terzo set dopo aver vinto il primo hanno perso il secondo hanno avuto anche un match point nel Super Tiebreak 10 a 9 in risposta a match point ma la coppia olandese è stata più brava più caparbia e è riuscita a strappare il pass per la semifinale peccato perché come ho detto prima per Musetti semifinale vuol dire che a prescindere dal risultato ti vai a giocare una finale che sia per il primo o secondo posto che sia per il terzo o quarto posto comunque c'è una concreta chance di andare a medaglia un peccato perché ci avevo creduto ero convinto che potessero farci le due si conclude così l'Olimpiade di Vavassori che comunque è molto positiva perché insomma nel singolare è stato chiamato a sostituire Siner ha battuto Martinez in tre set se l'è giocata ha perso in tre con Rude quindi ha fatto ampiamente il suo Andrea Vavassori per quanto riguarda Sara Errani anche lei è impegnata nel singolare femminile diciamo che il suo match di sicuro non è da ricordare perché è un doppio bag, un doppio 6-0 abbastanza triste però insomma Errani non doveva neanche giocarlo il singolare è stata anche lei ripescata in seguito a un forfè di un'altra tennista per le Errani chiaramente l'impegno da segnare sul calendario è quello di domani se non sbaglio nel doppio con Jasmine Paolini un'altra diciamo tra virgolette diciamo tra virgolette delusione di queste Olimpiadi eliminata ieri contro la tennista slovacca la coppia femminile azzurra ha la possibilità ai quarti di finale deve ancora uscire le avversarie saranno o la coppia brasiliana o la coppia della Gran Bretagna comunque ci sono concrete chance di aguantare quantomeno la semifinale l'augurio è questo, l'auspicio è questo una spedizione azzurra che alla vigilia dell'Olimpiadi partiva con parliamoci chiaro, è inutile girarci attorno io credo che un po' tutti noi eravamo convinti che quantomeno proprio nella peggiore dell'ipotesi una medaglia l'avremmo portata a casa ma una medaglia proprio nella situazione peggiore purtroppo è partito tutto con il forfait di Sinner poi delle eliminazioni un po' precoci nel singolare maschile, nel singolare femminile il doppio maschile soprattutto Bolelli e Vavassori e quindi ci siamo ritrovati con poco materiale e ora rimaniamo diciamo con due possibilità ovvero Musetti e Quarti e la coppia Rani e Paolini e Quarti l'augurio è quello che o Musetti o quantomeno Rani e Paolini centrino la semifinale e possano andare a giocarsi una finale anche eventualmente per il bronzo per dare lustro a un tennis italiano che a prescindere da queste Olimpiadi comunque sta vivendo il momento di massimo splendore da credo di sempre perché credo che nella storia del tennis italiano non abbiamo mai avuto un movimento e una serie di tennisti a questo livello sia nel femminile sia nel maschile ma anche nel doppio maschile e nel doppio femminile quindi le Olimpiadi erano e sono un'ottima occasione non perdiamo le speranze perché ripeto anche lo stesso Musetti per quanto sulla carta contro Zverev potrebbe partire partirà sicuramente se sarà Zverev il suo avversario favorito ma sarà un match da giocare io sono convinto che Musetti darà tutto e mai dire mai quindi incrociamo le dita speriamo di poter festeggiare quanto meno una medaglia indipendentemente che sia Bronto, Argento o Orox sarebbe sicuramente un grande risultato e poi ci rituffiamo nella stagione nel circuito ATP, VTA insomma con un Sinner pronto a tornare in pista in terra canadese carico anche oggi un post su Instagram del nostro numero uno del mondo in cui ha lasciato ci ha messo tutto l'entusiasmo insomma si sa Sinner non vede l'ora di rientrare in campo noi non vediamo l'ora di seguirlo come ho già detto sarà in diretta per seguire le sue partite indipendentemente dall'orario quindi dai ci sono tutti i presupposti per assistere a un proseguo di stagione al top senza dimenticare che ci sono ancora le Finals c'è ancora la Davis insomma tanto tennis tanto sport tante partite e quindi a prescindere da come andranno queste Olimpiadi è importante mantenere un ottimo livello anche perché sono le prime Olimpiadi dove abbiamo veramente un livello di tennis e di tennisti così alto per quanto riguarda l'Italia quindi l'auspicio e l'augurio è quello che tra 4 anni la situazione sia la medesima anzi sia ancora migliore e così per poi di 4 anni in 4 anni poi le Olimpiadi sono sempre motivo di di prestigio di lustro per i tennisti però sappiamo bene come i tornei ATP rappresentino ben altri interessi sia a livello economico che comunque insomma è più il pane di un tennista quello che ti vai per quanto riguarda proprio lo sport del tennis ti vai a confrontare giorno per giorno torneo dopo torneo nella stagione ATP quindi insomma le Olimpiadi vale anche per il calcio questo discorso anche un po' per il basket per altre discipline insomma lasciano un po' il tempo che trovano volte le Olimpiadi però sarebbe anche sbagliato sminuirle perché comunque vedete di Ocovici gli manca solo l'alloro olimpico insomma lo stesso Nadal ci ha provato Alcaraz sono convinto che non disdegnerà di portarsi a casa una medaglia e lo stesso discorso vale per Sinner che se ci fosse stato così come ci auguriamo tra 4 anni se magari dovesse riuscire a vincere magari tutti un torneo dello Slam poi l'alloro olimpico qualcosa che un po' tutti ambiscono quindi che dire come c'è l'isina sulla torta questo era un po' l'aggiornamento noi ci diamo appuntamento a domani salvo novità che magari una sconfitta di Zwer non glielo auguriamo però può sempre succedere ci diamo appuntamento a domani per un aggiornamento su quella che sarà la situazione degli azzurri insomma se ci saranno news sul tennis e non sempre qui sul mio canale io vi aspetto numerosi e non posso far altro che rinnovare i ringraziamenti per ognuno di voi ciao a tutti e buona serata